Prima della benedizione consentitemi dei ringraziamenti che non sono soltanto il seio di un dovere ma anche il piacere di condividere una gioia che ci ha visto tutti insieme unissimo. Sono assunto a Fano con i consiglieri di Annone, Amoronso e da Ponte, unitamente al consigliere provinciale Carlo Guadagno che ci hanno onorato con la loro presenza. Così come saluto e ringrazio la protezione civile, il comando di polizia locale che hanno reso possibile il corretto svolgimento della processione, le associazioni, le figlie di Maria, l'apostolato della preghiera, i portatori che hanno reso possibile il passaggio delle immagini dei nostri santi patroni tra le nostre strade. Su tutti e su ciascuno, insieme con il molto reverendo parroco di Monticelli e Corticelli, don Rosario Bottiglieri, vogliamo per voi la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Bene diciamo il Signore, benedizione del Signore, rendiamo grazie a Dio. Prima di riaccompagnare i santi in chiesa ascolteremo la legge. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.